21 marzo 2017 al suono del trombe la comunità si raccoglierà presso di te all'ingresso della tenda di convegno numeri 10 3 due trombe dio durante i 40 anni di permanenza nel deserto del popolo di israele aveva ordinata mosè di fare due trombe d'argento in base al suono delle due trombe che variava secondo l'ordine di dio il popolo si disponeva a fare ciò che gli veniva richiesto il versetto della nostra meditazione ci presenta il suono delle due trombe per raccogliere il popolo presso la tenda di convegno è interessante notare che nella spiegazione del significato dei vari suoni delle trombe abbiamo la chiamata presso la tenda dove dio si incontrava con il suo popolo in primo invito che dio rivolge a te che stai leggendo questa meditazione è quello che tu va da lui per essere salvato le due trombe non ci sono più ma dio ti chiama con la sua parola perché desidera accoglierti per farti del bene è interessante notare il particolare che le trombe erano due questo ci fa comprendere che dio chiama con amore con insistenza con perseveranza gli sdraeliti potevano ascoltare il suono delle trombe ma non agire secondo le indicazioni ricevuto tu che hai ascoltato la chiamata di dio non rimanere nella tua condizione spirituale ma va lui oggi stesso